Bonus lavoratori fragili, una tantum pari a 1000 euro, compatibile con altre indennità o prestazioni di disoccupazione. Al via le domande online sul sito dell'Inps da presentare entro il 30 novembre 2022. I destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, gli operai dell'industria, operai impiegati del terziario e servizi, lavoratori dell'agricoltura, dello spettacolo e marittimi. In alternativa al portale Inps l'indennità può essere richiesta attraverso il contact center integrato numero verde 8031 64 06 16 41 64 o mediante i servizi telematici degli enti di patronato.